Sono ripresi gli allenamenti del Bologna oggi a Casteldebole in vista di quella che sarà la sfida in programma domenica alle 15 sul campo del Dallara contro il Sassuolo. I non titolari della gara di domenica scorsa a San Siro contro l'Inter hanno lavorato già al mattino con una seduta di forza in palestra. Nel pomeriggio allenamento per tutti con attivazione in palestra, poi i ragazzi sono usciti sul campo dove hanno eseguito dapprima un lavoro di corsa, poi lavoro tecnico e una partitella a tema. Al termine di questa partitella solo i non titolari hanno proseguito l'allenamento sul campo con un'ennesima partitella a tema per la ricerca della profondità.